Questo accordo con la Fondazione Ferrovie dello Stato è un accordo che rientra un po' in questo progetto che noi abbiamo di creare rete tra le grandi istituzioni culturali e fare in modo che ci sia sicuramente una partecipazione dei nostri studenti ma anche dei nostri docenti alle attività del Museo di Pietrarsa, favorire la visita congiunta dei nostri siti monumentali come per esempio il Palazzo di Agraria, fa della reggia di Portici insieme a Pietrarsa, rafforzare i rapporti nel turismo congressuale, creare anche delle occasioni di studio e di ricerca su tutti i beni che ci sono sia dal punto di vista architettonico ma anche tutto il tema del ferroviario e quindi è un modo per creare questa forte sinergia che storicamente ci è sempre stata.